Sa, dottore, oggi dopo molti anni ho incontrato Nando, mio vecchio compagno di scuola. Oh, mi devi chiamare a Bulldog, che voglio una cosa da te. Mi vessava in continuazione, mi nullizzava. No, ne voglio mille. No, mi porti di confio del botto. Tu devi frequentare gente che ti rende migliore. Al segnale mio, entrate e sfasciate tutto. Io ho bisogno di un uomo, vero? Oh, testa è buono. Mi servite, professor. Mi devi imparare le buone maniere. Se non mi tocca massacrante. Sto tentando di effettuare un trasferimento caratteriale tra due soggetti diversi. Si può fare! Che dici? Se stiamo una bella passeggiata. Sono sempre 80 euro, eh? Certo. Ma che cazzo fa? Io, ma vedi che sto... Non si guarda la tv mentre si pranza ossigena, è chiaro? Penso che tu sia una persona semplice, ma anche profonda. Ragazzetta, donne nude e porche. No, grazie. Oggi vorrei le scienze. Perché c'è un articolo sui Bucineri che mi intriga parecchio. Sono buono e caro, ma se mi altero... Ci vedemmo la settimana prossima, eh? Io sono la messalina del tuo lupanare. Se tu mi guarderesti nell'occhio, capiresti quello che trovo per te. L'effetto era temporaneo. Sento l'ugenza di farti una domanda che mi vieta al profondo del cuore. Ti posso dare una botta? Ti vuoi tanto dare un'incarcata? Fammi la chiattella. Ti vuoi tanto dare un'incarcata? 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 Ti vuoi tanto dare un'incarcata?